Perfetto, buongiorno, abbiamo chiacchierato, abbiamo simulato quello che succedeva negli eventi in persona. Buongiorno, mi chiamo Massimo, oggi vi farò vedere come possiamo sposare insieme due tecnologie, una tipicamente serverless, le function, adesso vi spiego di cosa si tratta per chi non conosce le function e una tipicamente non serverless che è SQL Server, in particolare, lo dico subito, stiamo parlando di un mondo cloud, quindi stiamo parlando del mondo Azure e quindi parleremo di SQL Database, quindi è una sessione, diciamo, è un po' come me, borderline, è una sessione al bordo tra il mondo sviluppo, tipicamente Azure Function, il mondo dati, SQL Server, ma nell'accezione serverless, quindi adesso capiremo esattamente cosa significa. Quindi i partners e prima di cominciare il tutto abbiamo parlato di serverless, quindi capiamo che cos'è serverless, allora nell'accezione comune le architetture serverless, le tecnologie serverless, fatemi togliere questo che rompe sempre le scatole, ok, nell'accezione comune le architetture, le tecnologie serverless si basano su tre punti fondanti, il primo di questi è l'astrazione dall'architettura, che significa? Significa che sotto c'è un qualcosa che gira, ci saranno macchine virtuali, ci saranno deployment, ci sarà tutto, ma chi usa il serverless si astrae da ciò e vedremo quello che dirà, dirà, ehi caro Azure, a me serve che questo pezzo di codice o che questo database giri in maniera efficace quando serve, come gira, dove gira, qual è la potenza di calcolo, non è un problema mio, è un problema tuo, ok? Quindi siamo sempre in un'ottica pass in primis, in un'ottica pass più astratta rispetto ancora all'architettura che c'è sotto, all'infrastruttura che c'è sotto, come secondo punto. Secondo pilastro del serverless è la scalabilità dei venti. Qual è il concetto? Il concetto è che le tecnologie serverless sono pensate per quest'ottica qui. Allora, se nessuno mi usa, io stoccheto e non faccio nulla. Se però arrivano richieste, eventi, perché è tutto orientato agli eventi, eventi banalmente potrebbe essere una chiamata HTTP che si traduce in una scrittura in database, ed è quello che vedremo, ma potrebbe essere un timer che ogni 5 minuti parte e pulisce una tabella. Quindi in questo senso, se arrivano, io scalo affinché riesca a coprire. In realtà con SQL Serverless, vedremo, non è esattamente così, però ha un meccanismo di scalabilità in base al carico che arriva. Quindi la scalabilità è insida nella tipologia, nell'architettura, nella tecnologia scelta. Terzo, e anche questo non è secondario secondo me, infatti è terzo, è il pay per use. Che significa? Significa che se io, come vi dicevo, ricevo eventi, non caccio una lira. Caccio una lira è termine tecnico che usano anche a Parigi tipicamente, nelle borgate di Parigi. Cioè significa che se la mia architettura non riceve eventi, non fa nulla, io non spendo. Se la mia architettura, viceversa, scala a bestia, perché arriva una serie di eventi, ovviamente il costo sarà proporzionale. Poi dipendentemente dalla tecnologia, il pricing è leggermente diverso. Vi farò vedere dettagliatamente quella di SQL Serverless, come funziona, però il concetto è sempre lo stesso. Cioè se non lavoro, non pago. Di solito era se non lavoro, non vengo pagato. Ma in questo caso è se non lavoro, non pago. Se lavoro, pago di conseguenza. Quindi in alcuni scenari questo fa comodo, no? Immaginate uno scenario di accesso al database in un periodo del giorno, in un paio d'ore al giorno. A me farebbe comodo che io pagassi il database per quelle 2, 2, 3, 5 ore. Poi vediamo un esempio. Al giorno e non per le 24 in cui magari per 8, 8, 10 ore nulla fa quel database, no? Quindi potrebbe essere interessante. Partiamo dalle function, cerchiamo di capire cosa sono. Allora, qualcosa accade, l'evento, l'abbiamo visto prima, il qualcosa accade significa sono interessato a ricevere chiamate HTTP, sono interessato a ricevere dei cambiamenti all'interno di un database Cosmos, sono interessato a ricevere, che ne so, un messaggio messo in una coda. Quindi c'è un qualcosa che scatena, che scatena cosa? Che scatena la mia function. La mia function in tre parole è, la function è uno snippet di codice che viene eseguito ogni volta che si verifica un evento. Ok? Quel particolare evento ovviamente, non un evento di quel sede, quel particolare evento. Codice C Sharp, F Sharp, Node.js, Java, diversi linguaggi, PowerShell, quindi diversi linguaggi. Quindi il problema qual è? È che questo pezzo di codice parte, riceverà il fatto che l'evento lo fa partire, è associato anche a un payload dell'evento. Immaginate una chiamata HTTP, la chiamata HTTP non è semplicemente o qualcuno ti ha chiamato, ma è un o qualcuno ti ha chiamato e questa è la richiesta, no? Quindi di solito colui il quale, adesso vedremo esattamente qual è il nome del componente che sveglia la nostra funzione, passerà anche dei dati. Se state guardando, se state diciamo in listening su un database Cosmos, tanto per intendersi, il payload saranno i document che sono stati cambiati, ok? Che sono stati inseriti, modificati, cancellati, no? Quindi è questo. Il problema è che io ricevo sta roba dall'esterno, ma poi dovrò interagire con il mondo esterno, dovrò andare a scrivere da altre parti, chiamare e questo in realtà la funzione lo può fare andando a utilizzare servizi esterni, ok? Quindi che cosa ci posso fare? Quali sono gli scenari più tipici? Beh, la IoT è uno di questi. API molto semplici, processo dati. Qualcuno scrive da una parte, io prendo questo dato, lo elaboro e lo scrivo da un'altra parte. Quindi in realtà di scenari ce ne sono anche tanti. Come lo dico prima, così non lo diciamo più, è una soluzione tecnologica associata a un'architettura. La scelgo se i miei requisiti, se e solo se, scusate, i miei requisiti sono tali che vengono coperti da questa architettura. Ora non la scelgo perché fa figo, eh? Cioè resto tutti quanti serverless, ma se non mi serve, non la uso, ok? È un'architettura, quindi come qualche tempo fa andava di moda il microservizio e tutti dovevano avere almeno 6 a 7 applicazioni microservizi, adesso va di moda il serverless. Come al solito siamo architetti, software, dati, quello che siamo e scegliamo una tecnologia, scegliamo un'architettura perché ricopre i nostri, perché risolve, perché dà una risposta e dà una soluzione ai nostri requisiti, non perché tutto il mondo la usa. Poi è chiaro che se tutto il mondo la usa ci sarà un motivo, ce lo chiediamo, ma la scelta di un'architettura dipende dai requisiti. Detto questo, io questo, chi mi ascolta sa che lo ripeto 5-6 volte al giorno, proprio una mantra ormai, ho detto che la function viene lanciata, cioè viene eseguita a seguito di un evento benissimo. L'oggettone, il componente all'interno del mondo function che fa scattare il run della mia funzione è il trigger, si chiama trigger, quindi sta in ascolto sulla sorgente, quindi sta in ascolto su Cosmos, fa partire la mia funzione e ci sono un certo numero di trigger forniti da Microsoft, una ventina. Purtroppo non c'è un trigger per SQL e quindi già qui, ahia, ahia, oddio, almeno SQL come punto di partenza in un mondo serverless non può essere utilizzato. Facciamoci una ragione, no adesso vediamo, non ce ne facciamo una ragione, ora vediamo. D'altra parte, la funzione che ho detto interagisce con dei servizi esterni, l'interazione con i servizi esterni è demandata ad un oggetto, a uno o più oggetti che si chiamano bindings. Ce ne sono tanti, una ventina, circa 20-30 forniti da Microsoft, non c'è uno per SQL e anche qui siamo finita la sessione perché le function sembrerebbero non poter essere messe insieme, collaborare con SQL in un mondo serverless perché non c'è un trigger, non c'è un binding, nessuno non può essere svegliato da SQL e non può interagire con SQL. abbiamo finito la sessione, noi in realtà no, non l'abbiamo finita, altrimenti era inutile che la presentassi perché che succede? Che l'SDK che sta dietro le function, il runtime, è appoggiato a un meccanismo di estendibilità. Tutti i trigger, tranne i due che sono quelli di base, l'HTTP che risponde a chiamate HTTP e il timer, sono disponibili come pacchetti esterni. E quindi noi che possiamo fare? Potremmo creare, poi vi do il link al GitHub che porta, che contiene due implementazioni di trigger e binding per SQL, potremmo in teoria creare il nostro trigger e il nostro binding per SQL. In realtà questo è fattibile perché l'SDK delle function è appoggiato e si basa, è costruito sopra l'SDK dei webjob che sono un'altra tecnologia cloud, in realtà è una tecnologia anche non solo cloud ma sul cloud è presente, che hanno un meccanismo di estendibilità. Come lo estendiamo? Ora poi lo vediamo dal codice, in realtà definiamo quello che si chiama un extension config provider all'interno del quale diciamo caro, cari function, cara piattaforma, guarda che tu sei a conoscenza che esiste un trigger per SQL, che esiste un binding per SQL, queste, che glielo dobbiamo dire noi, sono le sue caratteristiche in termini di qual è l'attributo che lo decora, quali sono le classi che intervengono nella creazione del trigger e del binding e il trigger e il binding e i payload, abbiamo visto prima, il payload è ciò che viene passato quando la funzione viene svegliata o ciò che voi utilizzate per interagire col sistema esterno. È chiaro che se non esiste ce lo dobbiamo creare, ok? Per capire come funziona il meccanismo e dove ci posizioniamo per la creazione e poi lo vediamo praticamente, andiamo a capire quali sono i cicli di vita, cioè le fasi di una function, la function ha due fasi, start up, quando parte l'hosting delle function, quindi che voi siate on-prem, che voi siate su Kubernetes, che voi siate su cloud, dovunque voi siate a un certo punto il runtime parte e tira su le vostre funzioni. Quindi questo è il punto in cui voi dite alla piattaforma, oh oltre a tutti i binding che tu conosci, oltre a tutti i trigger che tu conosci, ci sono anche i miei per SQL, ok? Poi c'è ovviamente una fase di runtime che è il momento in cui le function girano, i trigger sono in ascolto sulle sorgenti dati e quando accade l'evento, quell'evento scatena il runtime. Quindi esistono due fasi, in tutte e due in realtà entrate, nei bind, nei trigger entrate soprattutto nella prima parte, nello startup, nei binding anche nella seconda. Adesso vi faccio vedere il perché. Perché in esattamente cosa succede? Ok, voi partono le vostre funzioni, la piattaforma starta le vostre funzioni e quello che vengono fatto, primo step, vengono registrate tutte le estensioni, quindi i vostri trigger di default, eventuali trigger Microsoft avete usato tirando dentro dei pacchetti e i vostri trigger. Perfetto, poi la piattaforma che fa? Si mette lì e analizza il vostro codice alla ricerca di tutte quelle funzioni che sono funzioni Azure Function e quindi le capisce. Una volta che le ha trovate, adesso vi faccio vedere come fa a trovarle, perché sono decorati in un certo modo, quello che fa è dire ok, però aspetta, questa è una funzione, ma io ho tutto ciò che mi serve per usarla, quindi sono in grado di costruire il trigger e sono in grado di costruire tutti i binding necessari, quindi fa una sorta di risoluzione delle dipendenze. Se tutto va bene, se va male viene scartata, quindi non è che si blocca tutto, viene scartata, quella funzione non sarà disponibile. Se tutto va bene, quello che lui fa è si crea una rappresentazione interna ad uso e consumo della fase di runtime, perché in questo modo quando dovrà lanciarla non dovrà ricostruire tutto, ma ci avrà già tutto pronto, semplicemente dovrà eseguirla. Ok, e poi la cosa importante per ogni trigger che avete messo, quindi anche i vostri trigger SQL, lui mette in esecuzione una cosa che si chiama listener, che è in ascolto, l'abbiamo detto, sulla sorgente, quindi per esempio su SQL potremmo mettere in piedi un trigger che usa, che ne so, il change tracker di SQL per fare polling e capire se cambia qualcosa. Quando cambia qualcosa, magari su una specifica tabella, ed è questo che fa il trigger che troverete nel GitHub, pum, fa partire la mia funzione e quindi il listener è importante perché il listener, il trade union, è il punto di unione tra la sorgente e le vostre function e quindi è probabilmente la classe più importante che creerete. Tutto è partito, tutto è su up and running. Che succede in esecuzione? Beh, a un certo punto se il trigger, il listener del trigger si accorge che deve lanciare una funzione, dirà alla piattaforma lanciala, questo è il payload, lanciala e allora che succede? La piattaforma va a ricavare, a trovare la definizione che aveva impostato precedentemente, che aveva creato precedentemente, ricordata al giro prima, ed è sicura di averla e utilizzarla perché ha già risolto le dipendenze, quindi sta tutto. A questo punto cosa deve fare? Deve andare a creare tutti gli oggetti che poi verranno utilizzati all'interno della funzione per i trigger e per i binding, scusate, quindi il trigger passerà un payload e poi all'interno della funzione riceverete gli opportuni oggetti per interagire con i servizi esterni e questa è un'altra classe importante, la classe che crea l'oggetto di interazione col servizio esterno. Adesso vi farò vedere nell'esempio che faremo, io ho creato due diversi tipi di oggetti per interagire con SQL, uno che permette di inserire una riga in un database e un altro invece che permette di fare più operazioni contemporanee, quindi n operazioni contemporanee. Però siete voi a doverlo fare, in questo momento non c'è uno, a me non mi risulta essercene uno out of the box, prendete il codice mio brutto a piacere e lo modificate come vi pare. Alla fine effettivamente viene eseguita la funzione, voi qui intervenite in questa parte perché la vostra classe genererà la conversione, la creazione dell'oggetto che effettivamente interagirà con SQL dal punto di vista scrittura, ma anche lettura, cioè dal punto di vista binding. Ok? E poi viene eseguita la funzione. Vediamola? Forse è più semplice. Allora. Allora, come è fatta la mia funzione? Poi entriamo nel dettaglio sul binding. Mi preme qui farvi vedere soprattutto la parte binding perché voi potete avere SQL all'inizio o alla fine della catena, no? Delle due della catena. Se lo avete all'inizio, siccome dopo andremo a vedere il SQL serverless, se lo avete all'inizio, probabilmente e mettete in piedi un trigger che fa polling, non state sfruttando il serverless perché quel polling lo terrà sveglio in un certo senso, poi vedremo che significa. Quindi permettetemi di porre l'attenzione sulla parte di binding, cioè io ricevo qualche evento da fuori e scrivo dentro SQL o leggo dentro SQL, in questo caso scrivo, ok? Perché secondo me ha più senso in uno scenario di questo tipo. Allora, come è fatta la funzione? Come sono fatte le funzioni? Aumentiamo un po' lo zoom. Allora, questo function name, questo è un attributo, decora come i bigliettini a Natale i pacchi e i bigliettini a Natale i pacchi, i bigliettini che mettete sui pacchi di Natale servono a capire a chi è iniziata quel pacco. In questo caso, questo attributo serve a dire che questa è una function, quindi in startup phase, nella fase di startup, il runtime sa quali sono i metodi che potenzialmente sono funzioni, sono tutti quelli che hanno questo. Ok, questa è una stringa, va bene? È un nome, una stringa, quindi non è importante. Come è fatta una funzione? Allora, una funzione è un metodo, ok? A, all'interno dei parametri, in questo caso due, lasciate stare il logger che è utilizzato dalla piattaforma per scrivere i log, utilizzate anche voi ovviamente, ma è di piattaforma. Vedete che questo qui, questa HTTP request è marcata e anche questa decorata con un attributo che dice, oh caro Azure Function, quando tu lancerai questa funzione, metti in azione un trigger e il suo listener che sta in ascolto su un endpoint HTTP in particolare che accetta un post come ingresso, in ingresso, un verbo post in ingresso. Ok, quindi è una request, una HTTP request. Quest'altro dice, quest'altro è un altro attributo che dice, oh caro, cara piattaforma, voglio interagire, voglio interagire con SQL Server, con un binding, questo a prescindere che SQL Server dall'altra parte da, in arrivo sia un server, adesso un normale, questo va bene per qualsiasi SQL. Poi vedremo la differenza tra avere un SQL binding per SQL Server normale e uno per SQL Server Serverless. Questo, se faccio tasto destro, tanto per, vado go to definition, questo sta nel mio codice, questo è il, l'attributo che io ho definito per descrivere il mio binding verso SQL. SQL, ok? In particolare contiene la stringa di connessione alla banca dati, poi qui metteteci quello che vi pare, questo rappresenta la configurazione per la connessione. Io qui ho scelto di usare la connection string che può stare anche in, nella, nei setting e il nome della tabella, questo lavora sulla singola tabella. Poi capite che se nel vostro caso specifico dovete fare cose particolari, chiamare store procedure, cose del genere, fate come volete, ok? Questa è semplicemente una demo. Allora, ma io dove dico alla piattaforma che lei deve conoscere questo? Cioè deve essere in grado di risolverlo perché nella fase di startup lui deve poterlo utilizzare perché altrimenti non riesce a creare la rappresentazione. Allora, start up, nella fase di startup avevo detto, ok? Che a un certo punto avrei registrato, avrei, diciamo, definito le mie estensioni, quindi in particolare i miei binding, ok? Come è fatto questo? Questa è la parte più importante. Cara piattaforma, vedete qua? Aggiungeci questo provider SQL binding, questo contiene le istruzioni, questa classe SQL binding config provider, adesso vediamo, è più difficile il nome che spiega quello che fa, contiene esattamente le regole, le descrizioni, le cosa deve utilizzare la piattaforma quando qualcuno all'interno di una function utilizzerà quel SQL binding. Andiamo a vederlo. Poi trovate tutto nel GitHub, vi lascio alla fine una serie di riferimenti, di link relativi a questa demo e ad altre, ad altra documentazione. Allora, come vi dicevo, questo signore qui estende, usa questa interfaccia, estende, implementa questa interfaccia, quindi a tutti gli effetti è un configuratore di estensioni. E l'unica cosa importante è questa parte qua, quindi quando la piattaforma arriva qua dice, ah, c'è una nuova regola di estensione basata sul binding attribute che è quello di prima, ok? Quindi lui è in grado a questo punto di sapere quell'attributo a quale regola di estensione corrisponde. Lasciate stare, questo è un validatore, quindi potete mettere in piedi i meccanismi di validazione, se sono state scritte la, se la stringa di connessione è stata impostata ed è quello che faccio qua sotto, o se la tabella è stata impostata. Potete mettere in piedi un po' di meccanismi che vengono controllati nella fase di startup e se non vanno bene escludono la funzione tra quelle, da quelle disponibili. E poi dico, oh, cara piattaforma, guarda che gli oggetti che l'utente, che lo sviluppatore potrà usare per interagire con questo binding sono due tipi. Sono questo oggetto SQL binder, questo, eccolo che vi dicevo, permette di fare la scrittura di una riga, o un oggetto generico, adesso vi faccio vedere come è fatto, che invece consente di inserire più righe, inserire, modificare, fare più operazioni contemporanee, ok? Potete averne quanti, ve ne pare, un binding può supportare 150 tipologie di oggetti, non sta a voi, ovviamente ci mettete quelli che vi servono. E come fa la piattaforma quando in fase di runtime deve creare questo oggetto? Beh, c'è il suo converter, questa è una factory, banalmente, che viene utilizzata, insomma, dovete poterla creare in fase di startup perché lui la crea quando crea la rappresentazione, ma poi la usa, quindi la richiama durante la fase di runtime, quando deve generare effettivamente l'oggetto che verrà passata alla function. Poi ci torniamo nella function, un momento. Andiamo a vederci questa perché questa è quella che utilizzo, in realtà le uso tutte e due, ma vi farò vedere l'esempio con questa. Questo signore qua, che cosa fa? Ha un metodo convert, riceve i dati dell'attributo, quindi la configurazione, e in questo caso lui va a crearsi questo collettore asincrono, ok, che implementa una certa interfaccia. Questo è l'oggetto che effettivamente riceverete all'interno della function e che lo sviluppatore userà per interagire con SQL, ok? Come è fatto? Questo è complesso, sembra complesso, in realtà magari lo è inizialmente, però tenete presente che ha senso quando voi avete dei team che scrivono le function e volete scrivere bene, performante, con bassi costi e fatto bene, un binding. Perché un team scriverà il binding, lo impacchetta in un bel package, gli altri team lo useranno nelle function senza chiedersi minimamente come fa in maniera automagica a creare gli oggetti che verranno utilizzati nelle function, ok? È chiaro che se dovete fare una function che scrive dentro una riga dentro SQL, boh, magari sembra complesso, ma mettetelo nell'ottica di un mondo enterprise in cui magari non avete una singola function che scrive in SQL, ma ne avete più di una, no? Quindi qua in realtà quello che io faccio è questo signore qui implementa un'interfaccia che è un collettore asincrono di oggetti. Questo è un mio oggetto, rappresenta una riga, un'operazione su una riga da fare, quindi inserimento, modifica, cancellazione. Quello che vado a fare è, in realtà qui vado a supportare in particolare l'inserimento e quindi aggiungo queste righe a una lista. Quando la function chiude, automaticamente, quando chiude in maniera corretta, automaticamente chiama questo metodo e questo metodo cosa fa? Usa un servizio esterno per salvare i dati, che significa un servizio esterno? Usa una classe, il salvatare, vedete qua dentro non c'è nessuna interazione con SQL. L'interazione con SQL sta qui dentro a questo metodo, perché l'idea è che il binding non abbia logica, ma si appoggi a servizi esterni, magari che già avete, delle classi che già interagiscono con SQL, in questo modo riutilizzate del codice, ok? Questo signore qui, infatto, sta che questo DB Service, che è un oggetto di tipo IDB Service, l'implementazione che sto utilizzando, sta addirittura in un progetto esterno, ed è questa. E qua, finalmente, dove sta? Oh, c'è ADO, questo è ADO, ok? Quindi sto addirittura utilizzando una tecnologia che non c'entra niente con le cose moderne. E qui ci mettete quello che vi pare, volete utilizzare Entity Framework, ce lo mettete, volete utilizzare qualissiasi altra tecnologia di accesso a SQL, la mettete. Io ho usato ADO per rimanere sul semplice e non aggiungere ulteriore complessità, è già abbastanza complesso. Va bene, torniamo nella Function. Non so che può sembrare complesso, in realtà, se poi l'andate a studiare, lo è, però una volta capito, come tutte le cose, è semplice, grazie. Detto una tautologia, però ci sta. Allora, qui come funziona? A questo punto, quando questa funzione girerà, adesso metteremo il breakpoint attivo e vedremo, riceverà la chiamata HTTP, questo, quello che fa lui, non fa altro di andarsi a prendere dalla chiamata il contact, il contact, quindi nome, cognome e mail, creare una riga da inserire nella banca dati e utilizzare questo SQL Rose. Questo SQL Rose viene iniettato da tutto il meccanismo che abbiamo visto prima e ve lo faccio vedere subito. Anzi, facciamo una cosa, ve lo faccio vedere nel giro con il SQL Serverless, così non perdiamo il tempo, ok? Intanto ci ritorniamo qui, la lanceremo dopo in modo, ogni volta che lancio le Function ci metto un po' a far partire, sulla mia macchina un po' a far partire il runtime, quindi ora vediamoci SQL lato serverless e poi mettiamo insieme le due cose, ok? E quindi faremo un giro di, faccio una chiamata HTTP, entrerò qui dentro e l'inserimento finirà su Azure in un mondo SQL Serverless, ok? Allora, vediamo un po', torno alle slide e passiamo, allora uno dei due blocchi dell'architettura, cioè la parte Function l'abbiamo visto, e adesso vediamoci la parte SQL, ok? Ora che cos'è SQL Database Serverless? SQL Database lo sapete, chi non lo sa ve lo dico, è la versione a servizio di SQL in Azure, in questa tipologia di servizio ogni database è isolato rispetto agli altri, quindi è il modo più semplice e più pass, più, meno legato all'architettura, all'infrastruttura, però stare un SQL in Azure, benissimo. Serverless, la parolina che c'è dopo, e non è altro che uno dei computer che potete scegliere dentro SQL Database, ora vi faccio vedere, facciamo le slide, poi vi faccio vedere un esempio, l'andiamo a creare, vediamo dove lo impostiamo, quindi è molto semplice. Una delle caratteristiche e uno dei motivi per cui si usa è che automaticamente scala in base al workload, quindi già si avvicina un po' al serverless, l'abbiamo detto prima, no? Il serverless scala a bestia, questo lo fa, in realtà lo fa con dei limiti, perché altrimenti spendereste un botto, ma potete configurare questi limiti. E allora ve lo faccio vedere. Venite, diciamo, vi viene conteggiato il costo del SQL su la compute used per second, quindi serverless, pay as you use, perché se nessuno chiama la vostra banca dati e la banca dati sta a riposo, non spendete una lira. In realtà non è vero, la parte storage è equivalente al SQL Database normale, sapete che un database è fatto da, come anche altri servizi, da una parte compute e da una parte storage. La parte storage non può essere server, la parte storage sta lì, perché lì ci sono i vostri dati, mica vorrete che i dati vengono tolti quando non lo usate, no? I dati stanno lì. Quindi per la parte storage il costo è costante ed è quello che avete in SQL Database. Per la parte invece computativa, che poi in realtà è anche quella che tutto sommato costa di più, quella funziona pay as you use, cioè se lo utilizzate pagate, se non lo utilizzate non pagate. Ora vi faccio vedere esattamente cosa pagate. E se per un periodo di tempo è inattivo, cioè nessuno fa richieste, nessuno fa operazioni, quindi non fa login, non fate chiamate, non fate query, non fate store proceed, non fare niente. Lui si mette in riposo, viene, diciamo, si chieda e alla successiva operazione verrà rilanciato, ok? Potete configurare questo periodo di inattività. Cosa configurate in questo caso? Configurate due valori per i vcore. I vcore sono l'unità di misura che diventa anche un'unità di billing all'interno di SQL Database Provisioned. Nel caso di SQL Database Serverless, voi definite qual è il vostro minimum numero di core e qual è il vostro maximum. Significa che in esecuzione, quando farete, quando verranno richieste funzionalità, SQL SQL rimarrà lì in mezzo, ma scalerà tra quei due. Quindi in questo modo riuscite a dire, ok, il minimo numero di core è 0.5, quindi mezzo core, il numero massimo è 50, posto che ci si possa arrivare, poi lo vediamo e quindi significa che se il carico è tale da utilizzare, mezzo core, rimanete sul mezzo core, ma quando vi serve potenza, quello scala e pagate, ok? D'altro mondo, a me lo stipendio è un modo di uno pagare, quindi ci vuole che scali verso l'alto. E poi configurate quello che si chiama auto-pause delay. In realtà sto auto-pause delay potete anche non metterlo, nel senso potete non dire, oh, se nessuno ti chiama, chetati, perché? Perché magari vi serve semplicemente una banca dati che scali e basta, ma deve essere sempre attiva. Se mettete questo auto-pause, come vedete in questo grafico, se per questa ora il numero, il valore minimo è un'ora, in questo caso messa un'ora come auto-pause, in questa ora non c'è traffico e quindi lui si cheta. In paused il costo per la parte compute è 0, pagate solo lo storage. Ok? Quindi dipende dallo scenario. Esattamente che cosa pagate? È la somma di compute cost e storage cost, ok? Lo storage cost è quello, è dallo stesso, ha lo stesso costo di quello che avete nel SQL database provisioned. Per la parte di compute cost, ogni volta che l'utilizzo è tra il minimo e il massimo dei limiti, quelli che abbiamo visto, il costo è basato su V-Core o sulla memoria utilizzata. Adesso vi dico esattamente, vi faccio vedere un esempio pratico perché è più chiaro, ok? L'utilizzo al di sotto dei minimi, al di sopra dei massimi, non ci potete andare, al di sotto dei minimi configurati, quindi minima memoria, che però non configurate, ma è determinata dal numero minimo dei core e il numero minimo dei core, è basato sul minimo possibile tra i core e la memoria. quindi comunque se non sta in pausa, quindi se non va in pausa, voi avete un costo minimo, quindi se lo utilizzate in ottica solo scalabilità, voi ricordatevi che avete un costo minimo, ovviamente sta lì, ok? Se non lo usate, se mettete la pausa, quando lo studio sta in pausa è costo zero. Esatto, questo, ok? E solo storage pagate, lo storage ricordate, non lo dico più, lo storage c'è sempre, quello è inamovibile, d'altro lì non è che vengono tolti i dati. Per lo storage il costo è lo stesso che avete nel provision. Facciamo un esempio, ok? Vediamo se riesco a chiarirvi, il venerdì mattina alle 10 è complicato, però supponiamo di avere un database con un numero di core tra 1 e 4 e memoria di conseguenza, perché poi vi faccio vedere adesso quando impostate i limiti, la memoria si imposta di conseguenza, quindi in realtà i core sono legati alla memoria, tra i 3 e i 12 giga, ok? Con un'autopause di 6 ore, cioè se per 6 ore nessuno lo usa, si chieda, e che il nostro workload attivo sia solo nelle prime 2 ore, ok? Allora, vediamo un po'. Questa è la tabellina. Allora, nella prima ora i core usati saranno 4, supponiamo che il nostro traffico fa sì che i core siano al massimo e la memoria siano 9 giga, ok? In questo momento, in questo caso, la dimensione, cioè tra vcore e memoria, quella utilizzata sono i vcore, perché? Perché c'è una convenzione che dice che ogni 3 giga di memoria utilizzati corrispondono a un virtual core virtuale, quindi in questo caso i vcore computazionali sono 4, i vcore virtuali per la memoria sarebbero 3, 9 diviso 3, e quindi il maggior numero è quello dei vcore, infatti è in rosso, qui l'ho segnato, quindi il suo costo di vcore secondi equivalenti sarebbero 4, questo numero, per 3,600, che sono il numero di secondi in un'ora, facile, nella prima ora voi pagate 14,400 vcore per secondo e ce lo mettiamo da parte. Nella seconda ora il numero di core utilizzati si riduce al minimo, ok? ma la memoria rimane è attorno ai 12 giga, sto facendo delle semplificazioni, però insomma vi permette di fare un confronto, ci permette di fare un confronto con un SQL provisioned. In questo caso, in questo caso la memoria viene utilizzata perché qui i vcore sono 1, la memoria sono 4 perché è 12 diviso 3, quindi in questo caso 12 giga diviso 3 per 3,600, lo stesso di quello sopra, ok? Poi per le successive 6 ore non succede nulla, nessuno chiama la vostra banca dati e in questo caso è un core quello che utilizzate perché che voi guardiate il minimo dei core o il minimo della memoria sempre 1 fa, quindi in questo caso ho preso la memoria ma vanno bene anche i core, infatti vedete che non ho messo nessuno dei due rossi perché sono equivalenti, quindi il minimo, il minimo perché lì siete a regime minimo, siete al semaforo con il motore al minimo, ok? Il motore però sta consumando, e quindi pagate 3 diviso 3, 1 per 21,600, 21,600 il numero di secondi in quelle 6 ore, 21,600, poi va in pausa, quindi dalle 8 alle 24 sta in pausa e chiude lo sportello, non c'è nessuno lo sportello, quindi nessuno lo chiama, non è che non c'è nessuno sportello, nessuno lo chiama e quindi lui sono passate le 6 ore e si mette tranquillo, in questo caso verde costo 0, quindi il totale giornaliero di v core per secondo che pagate ed è questo effettivamente l'unità di billing di core per secondo è 50,400, se andate a vedere i pricing attuali, poi magari domani cambiano, questo database server scosta, questo è 0,00145, è il costo di core per secondo, quindi questo per 50,000 fa 7 dollari, se lo confrontiamo, ho preso 2 a caso, ho preso un database provisioned 4 core 20 giga e 1 2 core 10 giga, quindi 1 è abbondante per quello che fate, quantomeno perché la memoria è più di quella che vi serve, l'altro è un po' stretto rispetto a quello che fate perché i 4 core non sono, non c'è arrivato a 4 core e i costi sono questi, quindi questo scenario peraltro mettendo un time di autoposte che potrebbe anche essere più basso, beh insomma c'è una piccola differenza, o non è che da domani usiamo tutti SQL Serverless, dipende dallo scenario, in questo scenario ha senso, ma se durante le 24 ore ogni 5 minuti c'è uno che chiama la banca dati, cioè, forse ha senso uguale perché magari sfrutto la scalabilità e insomma sto spendendo meno del singolo core che avrei su un database provisioned, però valutatelo in questo senso, però insomma qua rispetto a questo che però è oltre quello che mi serve c'è una certa differenza, ok? Circa un terzo, più o meno, ok? Scenari, allora single database con un utilizzo intermittente, con periodi di inattività, oppure e o un utilizzo basso, ogni 5 minuti ma arriva una query e quella query non è impattante, però potrebbe anche succedere che me ne arrivano altre, allora anzi di utilizzare un single database di tipo provisioned con il minimo un core, lo uso con il server rischio 0.5 magari poi mi metto 3 core, 4 core come massimo, quindi riesco a scalare ma quando sto al minimo spendo meno, ok? Oppure siccome ho un periodo di inattività sfrutto quel periodo di inattività e lo faccio andare in pausa, adesso vediamo però qual è la controindicazione del mandarlo in pausa, ora ci arriviamo. Oppure database che viene frequentemente riscalato per esigenze di custom, perché il customer deve scalare o perché il carico deve permettere una scalabilità e io non voglio mettermi lì a cambiare i core ogni 3x2 o mettere in piedi un meccanismo di autoscaling manuale, beh allora lì se io gli dico vcore minimo vcore massimo lui tra quei due si muove automaticamente e quindi buono oppure parto e dico non so quale sarà la potenza di calcolo che mi serve su questa banca dati non lo so e quindi cosa faccio parto con serverless metto limite minimo limite massimo il monitoring dopo un mese mi darà qual è il carico allora a quel punto dico ok sai che c'è questo mese non da questo mese vado in provisioned perché posso cambiarlo ora vi faccio vedere e scelgo il numero di vcore che ho stimato utilizzando questo approccio quindi anche un meccanismo anche per dire ok non so stimare quanto è il carico intanto lo metto serverless e lo faccio scalare e poi dal monitor capisco qual è stato il suo utilizzo effettivo e quindi vado su uno standard su un provisioned classico con un certo numero di vcore quindi ci sono degli scenari l'ultimo per esempio uno non se lo aspetterebbe ma l'ultimo è utile in questo senso ok quindi non è detto che sia semplicemente perché lo uso due ore al giorno ma potrei usarlo costantemente ma non ho idea di quanto lo userò di quanto sarà la necessità di calcolo ok un riassuntivo solo per segnalarvi questa è è grazie se il database si mette a riposo quando sta in pausa e quando arriverà la chiamata successiva si deve svegliare beh voi non credo che quando vi svegliano stompate sul letto e siete pronti voi quando vi svegliano avete bisogno di un po' di tempo per ripartire quantomeno per alzarti dal letto stessa cosa SQL quindi che significa in soldoni significa che la prima chiamata quando il database è in pausa è probabilmente va in errore perché avrà un time out quindi eh vabbè ma così va bene no perché no basta che la mia applicazione ora ve lo faccio vedere lo vediamo nella demo finale basta che la mia applicazione sia a conoscenza e che quindi gestisca quel tipo di time out ok gestisca quel time out in qualche modo ok quindi attenzione perché questo va tenuto conto durante va tenuto presente quando sviluppate l'applicazione in particolare quando svilupperemo il binding per accedere al SQL Serverless proviamo a configurarlo allora facciamo così mi metto qua dentro il resource group e provo a creare un database SQL Serverless per farvi vedere SQL Database Serverless per farvi vedere per farvi vedere cosa cambia allora SQL Database tanto non lo non lo non lo non lo creiamo perché genò già uno pronto che sta in pausa quindi mi sono ben guardato di chiamarlo nell'ultima ora vabbè come al solito un database quindi gli date un nome gli date un un server virtuale a cui appartiene la magia accade qua dentro qui nella parte di configurazione generalmente usate il provisioned e nel provisioned date il numero di core e memoria se switchate su serverless o che cosa c'avete a parte l'hardware configuration ma qui potete dire io voglio che il mio database vada da 5 a 40 oppure vada da che ne so da il minimo e massimo non sono completamente indipendenti per esempio in questo caso un 8 ma se scendo tipo porto a 4 vedete che va da 0 5 a 4 e di conseguenza la memoria che lo utilizzerà va da 2.1 a 12 e qui avete i costi ok io l'esempio ve l'ho fatto in euro allora di questi sono in euro è uguale a noi ci svia per capire la differenza ma insomma fateveli in euro fatevi in sterline in dracme fatevelo in quello che vi pare il costo qui in questo momento io non ho abilitato l'autopause se lo abilito posso decidere scusate se lo abilito adesso non si vede il click non so perché posso decidere quanto il numero il minimo è un'ora quindi non potete avere un autopause di un minuto ok il minimo è un'ora ok per cui ci siamo se volete dettagli tra cui l'esempio che vi ho fatto vedere è riportato anche in documentazione trovate il link qui vi ho messo il link anche nella slide finale ok nella slide di recap bene andiamo a quagliare adesso li vogliamo mettere insieme vogliamo mettere insieme le function con i servers detto che se le mettiamo insieme dobbiamo tenere presente il fatto che il server potrebbe stare a riposo e quindi si deve svegliare allora per questo basta basta cioè basta è questa la soluzione è gestire gli errori transienti in realtà questo è un pattern un approccio che dovreste avere sempre quando lavorate in realtà avremmo dovuto averlo sempre dovunque però quando lavoravamo on-prem il server del database era vicino stava lì stava attaccato magari ero stesso del server dove stava l'applicativo e quindi non ce lo ponevamo il problema che il database potesse non esserci ma semplicemente perché in quel momento si stava muovendo da qualche parte quando siete su un mondo cloud e state utilizzando dei servizi quei servizi si muovono non stanno fermi un minuto quindi può succedere che perché ci sia un problema di rete perché quello si muove o per qualsiasi altra problematica ci sia un errore che però è transiente che significa che si aspetto un decimo di secondo e riprovo non c'è più quindi in quel caso perché dare un errore al chiamante e inficiare lo slot la mia applicazione quindi il tempo di esecuzione la disponibilità della mia applicazione aspetto e riprovo in particolare quando il database serverless è in pausa la prima chiamata genera un time out ma solo quella se ci riprovo dopo un decimo di secondo non c'è più il time out quindi aspetto e riprovo ok keep calm e retry non è keep calm e retry ma retry after delay quindi uso ci sono diversi pattern nell'esempio che vi faccio vedere io usa un retry pattern per cui io farò una chiamata verso SQL se l'errore è di tipo time out quindi probabilmente stava dormendo e l'ho svegliato aspetto e riprovo aspetto e riprovo un certo numero di volte ovviamente è che sto in eterno se non finisco più ok come l'ho implementato e il suggerimento mio con un po' di esperienza è come implementarlo nel codice non vi scrivete le cose da zero perché il pattern retry va scritto bene nel senso che quello inficia non solo le performance ma inficia il fatto che effettivamente sfruttiate il server io nella demo che vi faccio vedere ho utilizzato polli polli è un modulo una libreria c sharp che mi consente di definire delle polisi tra queste esiste il retry ma ce ne sono anche altre tipo il circuit breaker il bulkhead ce ne sono tante io ho usato il retry in questo caso l'esempio e poi lo trovate anche nel nel binding anzi adesso lo faccio vedere anche fisicamente proprio nel codice l'esempio dice crea una policy io qui gestisco solo il fatto che sia una SQL exception in realtà potrei gestire che è una SQL exception di tipo timeout di connessione quindi potrei essere più specifico chi se ne importa questa è una demo e aspetta il retry dopo fino a cinque volte dopo cinque volte significa che l'errore non è dovuto al fatto che quello dormiva ma è dovuto al fatto che ho sbagliato altro quindi a quel punto do un errore quello non è più un errore transiente e aspetta la prima volta mezzo secondo qui è anche eccessivo io ho voluto essere sicuro la prima volta mezzo secondo la seconda un secondo la terza uno e mezzo e così via ok e poi come la uso nel codice beh anziché chiamare direttamente la banca dati dico caro Polli e seguimi la chiamata la banca dati utilizzando la policy che ho appena definito vediamola dal codice nel codice trovate un trucchetto allora fatemi trovare questo qua nel servizio che scrive nella banca dati fatemi togliere questa definizione qua che così automaticamente appare questa quindi ho definito la mia policy adesso faremo una chiamata e vedremo che la prima volta passa qui dentro passa qui dentro si viene ottenuto un'eccezione grazie quello dormiva e per farvi vedere che quello dormiva ve lo faccio vedere qua questo database che ho già creato è in pausa non faccio nulla è in pausa quindi la prima chiamata necessariamente dovrà aspettare il risveglio ok e lo uso qui quindi lo stesso comando che avete visto sopra in realtà viene richiamato all'interno della policy questo fa sì che il mio binding supporti SQL Server il primo no perché nella prima chiamata avrei ottenuto un errore come l'avevo scritto prima non andava bene allora vediamo una cosa facciamo mettiamo un breakpoint qua abilitiamo gli altri breakpoint ok adesso finalmente possiamo fare una chiamata anzi no aspettate un attimo prima devo fare un'altra cosa sappiate che io sono un po' anziano quindi posso fare una cosa solo alla volta intanto la faccio e devo cambiare la connettività perché ero connesso a database locale che però è un database SQL normale quindi non supporta il meccanismo di serverless quindi facciamo così aspettiamo che adesso parta e poi lo fermiamo e lo rilanciamo dategli un secondo che come al solito Visual Studio ci impiega qualche secondo anche se l'avevo lanciato prima di partire perché lui è così è un creativo Visual Studio è sempre stato creativo nella sua esistenza stoppiamolo da subito perfetto e rilanciamo ora lui parte mi farà vedere che ho a disposizione un po' di funzioni quindi la parte iniziale è quello startup che vi dicevo mi dirà che ho delle funzioni e e sono tutte quelle che ho definito perché lui è riuscito a costruire tutte le funzioni ora con molta calma ci vuole keep calm e serverless come avevo detto tanto siamo in tempo abbiamo dieci minuti in dieci minuti io posso anche raccontare ecco vedete prendiamoci questa questa è la funzione che è esattamente questa ok si chiama insert with binding vediamo non mi ricordo se il nome che ho lasciato lo stesso si insert with binding ci sta adesso provo a fare una chiamata e uso postman ma è una chiamata post quindi potete usare anche http rappel quello che vi pare a voi io uso questo perché io sono anziano se non uso la UI non capisco quindi sto inserendo tramite questo endpoint privato cioè locale che quindi chiamerà quella function un contatto nome cognome e mail questo finirà su Azure in un SQL serverless adesso quello che mi aspetta è che si fermi se il signore delle demo mi aiuta si fermi nella chiamata della function in realtà forse c'è già si è già fermato vediamo un po' si dovrebbe fermare qua con tutta la calma di questo mondo e ovviamente quando ah scusa sorry ok si era bloccata la console quindi sono qua quindi come vedete questo signore per esempio non so se lo vedete penso di sì questo è esattamente la sync collector quindi qui lo sviluppatore deve fregarsene usa semplicemente questa interfaccia chi se ne importa come ha generato è chiaro che chi l'ha sviluppato l'ha sviluppato bene quindi non chiamate me tanto per intenderci allora quello che lui farà aggiungerà il record che ha ricevuto e a un certo punto quello che mi aspetto è di arrivare scusate nel ser nella parte finale di qua nella persistenza e fare l'inserimento vediamo se poi intanto ci siamo anzi scusate era quello sotto perdonatemi era quello sul table vabbè uno dei due ma è uguale sono qua ok quindi sto facendo apertura della connessione inserimento mi aspetto che questo signore vada in errore di time out perché il database dormiva vediamo se lo fa dovrebbe andare in errore di time out perché il database era addormentato con tutta calma di questo mondo la mia rete è scarsa si deve connettare al DB ops ha beccato un'eccezione esigo l'exception grazie dormiva a questo punto io aspetto mezzo secondo riprovo e e automagicamente non accade più nulla non è vero che non accade più nulla perché intanto devo cercare di capire perché non mi fa vedere tutto quello che voglio vedere il mio portale ah vabbè niente vediamo un po' vediamo un po' probabilmente la mia connessione fa pena oggi fate pazienza vediamo se il database dovrei trovarlo in running ora è online eccolo quindi ci ha messo di più a partire quindi ha fatto due giri prima che desse l'ok ma in ogni caso dovrebbe essere online chiedo scusa non so perché il mio portale probabilmente la connessione non si aggiorna correttamente ora mi connetto vediamo se mi fa connettere con Active Directory se no do la password non è un problema tanto da bravo me la sono segnata perché se me la devo ricordare in memoria non ce la farò mai no allora facciamo così vediamo se ha inserito i record nella tabella niente chiaramente ha funzionato tutto ora mi rima contro facciamo così facciamo un bel facciamo un reload va tanto non se nega nessuno quindi il concetto è poiché il serverless e questo è un approccio che avete sempre il serverless significa che potrebbe non esserci niente di là ma esser pronto a partire in questo caso il database quindi io devo essere pronto e a reagire in questo modo quindi non dare l'errore se la prima connessione va male ma dimmi che ci c'è qualcosa dentro vediamo un po' questo adesso se lo rifaccio se prova a inserire un altro record e magari cambiamo che ne so scriviamo scusate ma mentre scrivo non riesco a parlare sembra strano però è così infatti come vedete sbaglio provo a inserirne un altro in teoria non dovrebbe fermarsi qui ok dovrebbe fermarsi qui ma non dovrebbe dare più errore ok e non dovrebbe poi vediamo se mi smentisce e e se tutto è andato a buon fine e non ci mette un anno a dare la query dovrei trovare due quindi primo giro è ovvio stava giù adesso è partito e si comporta come un sequel normale quindi magari l'eccezione potrei gestirla un po' meglio però in questo caso è andato liscio ok a parte dei problemi di rete mia però quelli non è un problema del serverless è un problema mio bene ricapitoliamo siamo così siamo in chiusura precisi allora in generale il serverless tra i tanti scenari è una soluzione ottima quando non sapete il carico e volete scalare ok o quando avete necessità di scalare sul carico ma quel carico non è ben chiaro quindi il serverless in generale sia le function sia le logic app sia event grid sia serverless SQL database serverless sia Cosmos DB serverless sono tutti degli approcci di questo tipo in particolare con le function non guardate la creazione del trigger e del binding che lo farete fare a qualcuno bravo ma poi all'interno della function che fa quell'inserimento voi vi siete concentrati sul business prendo questa roba dalla richiesta crea un oggetto e lo inserisco punto come viene fatto non è un problema di chi crea la function sarà un problema di chi crea il trigger quindi non vi preoccupate di dettagli infrastrutturali non vi occupate dell'interazione con la banca dati è chiaro che se questo ha senso lo fate cioè se avete tanti team che sviluppano function allora uno farà i pacchetti che utilizzeranno gli altri e gli altri saranno più veloci perché non dovranno andarsi a preoccupare ma come usa la connessione di qua di là devo aprirla devo chiudere ci pensa tutto il binding SQL database serverless vi permette di a parte gli scenari in cui non lo utilizzate per un po' e quello è evidente che ha senso ma anche in quegli scenari in cui voi non sapete il carico o non riuscite a stimarlo magari lo sapete ma non riuscite a capire quali sono i core che vi servono beh lo mettete in serverless dopo un mese di utilizzo capite qual è il workload magari in quel mese spenderete un po' di più perché dovete mettere un po' più di core in più quindi lui si muove a quel punto potete ritornare a provisioned con di core stabiliti infine gestite sempre ma questo vale a prescindere dovrebbe essere di a prescindere dal serverless gestite sempre gli errori transienti perché a volte siete obbligati e questo era il caso altre volte un errore transiente riportato a monte fa sì che la vostra applicazione in quel momento non ha funzionato per una cavolata cavolata è termine tecnico che usano anche a Londra e in quel caso il vostro SLA quindi la vostra disponibilità nel tempo si sta abbassando per una cavolata voi volete che la vostra SLA si abbassi per una cavolata no e quindi gestite gli errori transienti detto questo sono a disposizione per qualsiasi domanda qui trovate anche i miei riferimenti quindi se mi volete insultare la mail o twitter il mio link di contatto LinkedIn vediamo se ci sono domande nella chat appena Teams me le fa vedere o nel frattempo non mi pare il che o è tutto chiaro se volete potete usare il pulsantino in alto per fare domande spero sia tutto chiaro in ogni caso se vi vengono dopo mail ce l'avete questa questa qui è semplice massimo.bonanni at microsoft.com le slide poi immagino Danilo te le farò avere così le condividerai nelle slide trovate un po' di link a documentazione sia per SQL database sia per le function e sia l'ultimo perché è il meno importante il link al mio GitHub con la demo quindi anche con la versione serverless quindi se non ci sono domande io vi ringrazio dell'attenzione un buon fine settimana e magari ci vediamo al prossimo al prossimo evento grazie grazie grazie